Musica Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV La rassegna stampa del mattino Occhio ai giornali tra poco insieme a voi Con la lettura del Corriere Adriatico Del resto del Carlino Con le pagine dedicate alla provincia di Pesaro e Urbino Oggi è il patrono d'Italia San Francesco, San Francesco d'Assisi Un santo amato da tutti Da tantissimi giovani Soprattutto che ancora, per fortuna diremmo Seguono le orme di questo fraticello Che ha cambiato il mondo Francesco è il patrono d'Italia Oggi particolarmente amato dai giovani Da quanti hanno la sensibilità per la natura E amore per gli animali È nato nel 1182 ad Assisi Ed è morto nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226 Si dice anche che è stato colui che ha ideato il presepe Le previsioni Il sole è sorto alle 7.01 Tramontare alle 18.57 Allora, vediamo le previsioni del tempo per la giornata di oggi Ieri abbiamo azzeccato quasi anche l'ora Intorno a mezzogiorno è iniziato a piovere Così come avevamo annunciato Oggi che cosa prevede il sito della protezione civile delle Marche? Vediamolo subito Cielo poco o irregolarmente nuvoloso Con possibilità di isolati rovesci Lungo la fascia costiera nelle ore centrali della giornata Temperature minime in diminuzione Le massime sono stazionarie Le piogge non interesseranno però a quanto pare la provincia di Pesaro I venti sono di brezza nord-occidentali Per domani mercoledì 5 ottobre Cielo sereno poco nuvoloso Con temperature in diminuzione I venti di brezza tesa nord-orientali Giovedì ecco il tempo che cambia Con la pioggia più insistente nelle zone dell'entroterra Le temperature sono in aumento I venti di brezza tesa da sud Ecco perché aumenteranno un po' le temperature E quindi dobbiamo aspettarci per giovedì Soprattutto a partire dal pomeriggio Questo maltempo che potrebbe arrivare fin sulla costa Debole instabilità anche per venerdì e sabato Con peggioramento a partire dalla giornata di domenica Il Corriere Adriatico Il dramma di tanti giovani, giovanissimi che bevono Bevono come le spugne purtroppo Perché bevono tanto Sono giovanissimi, iniziano il loro primo drink a 13 anni Pensate, è un'inchiesta Due servizi, due pagine Che dedica il Corriere Adriatico questa mattina Lanciando quest'allarme importante per minori alcol Studio dell'Asur squarcia il velo C'è una 17enne, ricorderete, nei giorni scorsi Finita in ipotermia a Baia Flaminia, a Pesaro E quel caso non è un caso isolato Due pagine dicevamo Ecco la prima, generazione alcol Il drink a 13 anni, 9 studenti su 10 Si ubriacano Allarmante studio dell'Asur Aumentano i minorenni che bevono E si abbassa l'età della prima volta Con il bicchiere in mano Marco Pompili del Dipartimento di Prevenzione Dice tra le cause ci sono la timidezza Mancata stima e paura del futuro Paura del domani Una ragazzina in ipotermia decisivo L'intervento del 118 La lunga notte di questa 17enne Abbandonata dagli amici Dalle amiche Priva di sensi in spiaggia a Pesaro Il direttore Loffreda dice I problemi derivano da alterazione psichica E incoscienza Incoscienza e vomito Queste sono le due pagine Le due pagine Che fanno stringere lo stomaco I genitori che hanno i ragazzi Più o meno di questa età Però Credo che sia il caso di leggerle Perché è inutile nascondersi Più sicurezza O il campus sarà il Bronx Altri problemi a Pesaro Soprattutto per E più o meno siamo lì Il tema è quello Il campus è il campus Dove i ragazzi vanno a studiare Dove i ragazzi vanno tutte le mattine A lezione Ebbene I residenti chiedono adesso Aiuto alle istituzioni Il presidente del quartiere Pantano Dice Servono illuminazione e telecamere Anche i negozi qui chiudono Perché è una situazione ormai invivibile E Claudio Andreani Che è responsabile del centro per l'impiego di Pesaro Lo definisce un grande supermercato della droga Parla di questo reclutamento allo spaccio Per chi lascia purtroppo i banchi di scuola Poi la morte di Paolo Ferri Il fratello di Andrea Il benzinaio ucciso Lo ricorderete qualche anno fa E di Michele Abbiamo pianto con il Papa Il Papa di ritorno dalla Georgia Ha subito chiamato e celebrato messa Per Paolo Che è morto qualche giorno fa Per una malattia Il Santo Padre ha telefonato alla famiglia Ferri Non si è dimenticato della famiglia Ferri Tornato dalla Georgia Si è subito unito al dolore Per la scomparsa di Paolo Ha viaggiato tutta la notte Raccontano i familiari Ma appena arrivato in Vaticano Ha celebrato una messa per noi Andiamo sull'altra pagina Quella di Urbino Biosalus Si parla di biologico Ha spiccato il volo L'anno del boom dei visitatori L'evento dedicato all'approccio olistico È diventato un riferimento nazionale La pagina di Fano invece è dedicata alla politica PD difesa d'ufficio per Minardi Adesso non si deve dimettere Respinte le critiche della prima dei non eletti Passata alla lista possibile Non ha preso voti Anita Mencarelli è accusata di non essersi impegnata Negli organismi dirigenti Il partito senza memoria ignora lo statuto Il consigliere regionale promise la rinuncia Allo scranno comunale È l'articolo di Furlani L'architetto sconosciuto maestro onorato in Polonia Il francesco Maria Il fanese scusate Francesco Maria Lanci Protagonista nel XIX secolo Di una rinascita neoclassica Ed eccola qua Una delle maestose ville progettate Da questo architetto fanese in Polonia Guardate che bello Non sapevo nemmeno Non sapevo nulla di questo E in effetti così come la maggior parte Il noto antiquario Romolo Eusebi A rivendicare la memoria di questo concittadino E ha fatto bene Eusebi Il sindaco di Riace invece All'Africa nel cuore Sarà a Fano Per ricevere il premio dell'associazione di Italo Nannini Appunto l'Africa Chiama E Domenico Lucano Sarà presente sabato prossimo Alle 15.30 Nella sala del consiglio comunale Per ricevere questo premio Trend in crescita Parliamo di turismo Il turismo respira L'assessore di riferimento Con la delega appunto del turismo Del comune di Fano Marcheggiani Dice Prevediamo che i dati ufficiali Indichino un incremento Dal 3 al 5% La differenza la fanno Gli eventi della bassa stagione Cecchini degli albergatori Dice Nelle nostre strutture Ora i turisti Sono qui per partecipare Alle fiere E ai mercati Del tartufo Sono tornati gli stranieri Alle statistiche Sfugge il sommerso Di appartamenti E di camper Gli appartamenti Di quelli che ancora Non denunciano La presenza Di persone All'interno Le proprie abitazioni Più di mille invece Alla replica fanese Dell'Octoberfest Apprezzato il concerto rock Cucine e birre Bavaresi Per tutta la settimana Allo sport park Festeggiamenti Tanti nonni Festeggiati Tanti nonni A Fenile di Fano Sussidio educativo Per i nipoti Giornata dedicata All'incontro Tra le generazioni Domenica era la festa Dei nonni È una festa Che ancora deve Forse un po' Prendere piede Però insomma Non tutti Se la ricordano Però c'è questa giornata Dedicata all'incontro Tra le generazioni Di un tempo E quelle di oggi La trasmissione Dei valori Non ha prezzo Allora Andiamo adesso Sull'altra pagina Quella della Valla del Cesano Del Corriere Adriati La cronaca Si schianta con il trattore Della vendemmia Grave un agricoltore Sotto sciocchi titolari Ferito a Monteporzo Il dipendente Dell'azienda Ser Filippi Di Marotta Il carico d'uva È da buttare Il mezzo è finito Contro un terrapieno In un tratto rettilineo Le indagini Sono adesso Per scoprire la causa È rimasto ferito Mauro Pacenti 55 anni Di Senigallia Tartufo Partenza con il botto Da Pergola Marea di visitatori Domenica Pubblico Da Mezza Italia Ed estero E tanti rappresentanti Anche di altri comuni Soddisfatto Il sindaco Baldelli Dice il binomio Cultura e cucina Su cui puntiamo Ha funzionato ancora E adesso L'altra pagina Quella di Pesaro Del Corriere Reddito di dignità Budget da 2 milioni Poi sotto La notizia Che Ha colpito Un parroco Ricoverato in grevi condizioni A Fano Don Farina Don Marco Farina Il parroco Dell'unità pastorale Di case bruciate Tre Ponti Babuce E Roncaglia Che proprio l'anno scorso Ha festeggiato 50 anni di sacerdozio E' stato colpito Da un ictus E ora avversa In gravi condizioni Nel reparto Stroke Unit Dell'ospedale San Salvatore Di Fano Questa è la notizia Che trovate Pubblicata appunto Sul Corriere Il Carlino invece In apertura Il campus Salvate Il campus I presidi Vanno domani Dal prefetto Ma il problema Va ben oltre Le scuole L'area Nelle ore notturne È in mano Ai vandali E ai drogati Guardate Come si presenta Tutta l'area Appunto dove Frequentata Di giorno dagli studenti E evidentemente Di notte Da drogati E quant'altro Il Papa Telefona alla famiglia Ferri E' Rosalba Dice il pontefice Che mi dà coraggio Chiamata dopo la morte Di Paolo Fratello del benzinario Ucciso E raccontano I familiari Ferri Insomma La famiglia Ferri Dice il Papa Pianto con noi Blitz del Comune Giù La casa Da Diciabotti Variante per l'edificio Di Viale dei Partigiani Si faranno Solo tre piani Entriamo Nelle pagine interne Leggiamo Solo i titoli Delle pagine di Fano Tombaccia Ostaggio del Metauro Insorge Il quartiere Il letto del fiume Ostruito dai rami Che creano Chiaramente Un rischio alluvioni Floriano Bellucci Nella fotografia Presidente dell'associazione Quella del fiume Dice aspettano Che succedano Le tragedie Per muoversi Se lo domanda Anche perché Dice ancora Chi deve fare La manutenzione Il problema degli argini E' dovuto Alle bestie Che scavano tane Che li rendono Più deboli Istrici per esempio Nutrie Proliferano Da quando non fanno Più entrare nessuno Cacciatori e cercatori Di funghi Compresi L'ideologo No gender Arriva a Fano Monta la protesta Massimo Gandolfini Che però Ha già detto Attraverso il nazionale Che non sarà A Fano Verrà sostituito Da un altro Del movimento Annunciata Poi smentita La presenza di Gandolfini Al Masetti Ma è già polemica La polemica E' stata scatenata Dai femminismi L'associazione femminismi Perché la scuola Pubblicizza Una figura Così discussa Chiedono E si domandano Le femministe Riace Benedetta Fulimigrazione Da sabato Show Incontri Per riflettere Sul continente nero Il sindaco Del paesino Calabro Ospite d'onore Della settimana africana Che si tratta Dall'8 Al 15 Di ottobre Poi La foto Di Rosetta Fulvi Che Ha querelato Ha denunciato Per diffamazione Aggravata Sabato scorso Per una sua foto E un video Che sono stati postati Da sconosciuti Sul suo profilo Facebook E un episodio Che risale Al 12 Di settembre Passaggio a livello Andiamo Andiamo Sulla pagina L'altra pagina Di Fano Del resto del Carlino Passaggio a livello Il sindaco Scopre le carte Amarotta Interpellanza Dei 5 Stelle In consiglio Si vuole proseguire Con la chiusura I grillini Sono da sempre Contrari al progetto Porterà solo Svantaggi Alla viabilità E poi anche qui La cronaca Col trattore contro l'albero Soccorso In eleambulanza Un 55enne Di Senigallia E tutto Per quanto riguarda Da occhio ai giornali Grazie per la vostra attenzione A voi tutti Le auguri di una buona giornata